Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi voglio assolutamente invitarvi alla diretta live di domani sera per la finalissima del campionato Aston GTE, ovviamente organizzato da simdrivers.eu perché questo è un campionato abbastanza particolare che vede ben 4 team in lotta per la vittoria finale e domani è la finalissima quindi assolutamente da non perdere, lo spettacolo è assicurato perché in queste 4 gare precedenti che abbiamo visto, abbiamo visto veramente delle cose fantastiche, delle lotte spettacolari e per chi è appassionato di questo tipo di simulazioni non potete assolutamente perdere questa finale. Io voglio approfittare per ringraziare tutti i piloti che hanno partecipato a questo campionato, agli organizzatori, in particolare Fabio Napolitano e Pino Sciotti, il nostro cronista per la dedizione che hanno messo all'organizzazione del loro primo campionato diciamo ufficiale su simdrivers.eu, devo dire che è stato un successo per quanto riguarda il divertimento domani sera alle 21 ragazzi l'evento finalissima di questo campionato, non potete perderlo 4 team in lotta ragazzi, a pochissimi punti, gli scenari che possono presentarsi sono veramente infiniti per quanto riguarda appunto le combinazioni tra i punti che possono andare a guadagnare i piloti, quindi ragazzi non mancate domani sera alle 21 appuntamento sul canale youtube simdrivers, ci sarò io Daniele Vella e tutti i piloti in pista. Vi invito a condividere l'evento con più persone possibili e come al solito lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e come dicevo prima ci vediamo domani sera alle 21, ciao!